Se hai un musicista che ha bisogno di promozione, non sai come fare, chi contattare e ti piacerebbe magari capirci qualcosa di più e non solo capirci qualcosa di più ma anche magari imparare tu a fare da solo, a promuoverti da solo in maniera professionale con internet, abbiamo la possibilità di ottenere grandi risultati, io ho creato un kit che ti può aiutare dove ho raccolto dentro tutti gli strumenti che ti servono, i contatti, i video tutorial, le guide, i corsi, gli esempi, i template per promuovere la tua musica in maniera professionale da solo, ti invito a scaricarlo, clicca sul link, Protocolo Mao, Music Advertising Organization, ci vediamo dall'altra parte.